Itan, una sconfitta maturata nel primo 4, soprattutto un passivo importante, poi in realtà la squadra se l'è giocata punto a punto per il resto della partita? Sì, un primo quarto un po' difficile, specialmente dal punto di vista energetico, abbiamo iniziato da un po' mosci, il resto della partita credo che ce la siamo giocata, abbiamo fatto degli aggiustamenti e lo sapevamo che Pistò è una squadra molto solida, quindi classifica per un motivo e potevamo giocarcela un po' meglio verso la fine, però ci abbiamo provato. Per te una buona prestazione individuale, adesso si torna al Carnera, prossima settimana si affronterà Ravenna per ricominciare e ributtarsi nel campionato? Sì, noi si butta la prossima, vediamo cosa dobbiamo fare meglio dopo vedendo il filmato e saremo pronti per Ravenna. Un invito ai tifosi a continuare a sostenere la squadra in questo momento, un po' altalenante e comunque venire al Carnera a sostenere tutti voi? Sì, assolutamente, grazie ai tifosi che vengono sempre a Carnera a tifare e spero che continuino.